fate molta attenzione perché in questo piccolissimo filmato vedrete lui bello fighetto il vostro igri vannucchi che va a pescare tutto bello fisicato che picchia un roncio e batte una culata in terra disumana guarda bel barbettolo vai tra i più piccoli tra i più piccoli si mi raccomando una buona presa mi sono smerdato ah no c'è il pesce ero io l'anziano si rialzati e ora è un casino dai chiudi l'ombrello il bastone rompi l'ombrello non è andata bene col cappello poteva andare peggio hai fatto una sforbiciata delle tue ti mancava il pallone però vada un po sono da buttare sì ma te lì che sei il pesce che figura di merda